Ma dove invotti? Presto, presto, presto! Sì! Dio, diamoci nel bagno! Ma perché questa trapola? Perché, perché? Perché mia moglie, al contrario di me, non vuole che tu sposi mia figlia. Ma ti pare che io per andare con quella scicasco mi perdo la fortuna? Ma che fortuna? La fortuna di aver incontrato tua figlia, no? Ah, questo orologio! Posso vederlo se ho un appassionato? Mmm, bello, bellissimo! Ti piace? Guarda, il mio è carino, ma il tuo è più grosso. Eh sì, effetti il tuo è più piccolo. Posso toccarlo? Senti che morbidezza di pelle. Posso prenderlo in mano? Scotcia? Prendilo in mano. Tocca, tocca. Oddio, sa un po' di selvatico però, eh? Io lo devo lavare. Eh, direi sì. Se vuoi un prodotto meraviglioso, tu lo spalmi su. E poi me lo rodina. No, 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 quello è un olio. Ah, sì, lo deterge, lo lubrifica e dopo si infila anche meglio, no? Ma va, no. Eh, il tuo è più piccolo. Mmm, non è più quello. No, diciamo che il tuo è più bello. Ti piace grosso, eh? Basta con queste pippe, figlio mio. Andiamo a fottemamma. Scusi, padre. Scusi, padre. Grazie.